Signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordinato, confusionario e incasinato disordine della mia libreria. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, questa sera parliamo, torniamo a parlare di libri, torniamo a parlare di quello per cui è nato questo canale, recuperando un'opera in tre volumi intitolata I Medici dei Lager. Un'opera scritta da Philippe Aziz e pubblicata nel 1974 dalle edizioni Ferni di Ginevra. Un'opera che analizza brevemente, in maniera molto breve, molto sintetica, sono tre librettini da 250 pagine che in maniera breve, sintetica e, come dire, molto stringata, raccontano la storia terribile, atroce e terrificante della medicina nazista, dei medici dei Lager. L'esempio più conosciuto sapete tutti chi è? Il dottor Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, quello a cui gli Slayer hanno dedicato Angel of Death, detta come io da metallaro posso dire semplicemente che Angel of Death è indubbiamente una delle canzoni più devastanti mai scritte in ambito metal. Nota bene però una cosa, Angel of Death degli Slayer è dedicata a Mengele, racconta sì le terrificanti imprese di Mengele, ma non è sicuramente una esaltazione di quello che ha combinato Mengele, è un racconto di quello che ha fatto l'angelo della morte di Auschwitz. È un semplice racconto. Del resto Jeff Hanneman, che ne è l'autore, era uno che girava con la maglietta con su scritto Nazi Punk, fuck off e l'adesivo dei Dead Kennedys per dire, e l'adesivo dei Dead Kennedys sulla chitarra, per dire dicevo, 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 i medici dei Lager. Una delle pagine più oscure della storia dell'umanità. Questi librettini sono, è un'opera in tre volumi, dicevo, ci raccontano le gesta, tra virgolette, dei figuri che gestivano la sanità del RAI. Il dottor Leonardo Conti, il dottor Karl Brandt, il dottor Karl Gewart, il dottor Handloser, il dottor Hirth, autentico e vomitevole. Io credo che non sia veramente possibile trovare un essere più vomitevole del dottor Hirth. Il dottor Hagen, altro bel fenomeno. Ah, poi per non parlare di quel fanatico di Wolfram Sivers, il responsabile della SSAN Herb, la società per le eredità ancestrali, responsabile delle ricerche genetiche e degli esperimenti genetici nei Lager. Bella roba. Insomma, questi agili, ben scritti e molto fruibili librettini sono un'antologia di terrificanti atrocità, di esperimenti crudeli, di esperimenti insensati, di atrocità spaventose che non portarono praticamente a nulla. Le ricerche di Mengele, cercare di cambiare il colore degli occhi dei bambini ariani da castani ad azzurri, per dire. Le ricerche di Mengele sui gemelli, per dire. Le ricerche sui gas tossici, le ricerche sugli antidoti dei gas tossici, le ricerche sull'ipotermia, cioè cose allucinanti che non portarono praticamente a niente. Oddio, per meglio di una cosa. Le ricerche, per esempio, le ricerche di Mengele sull'eugenetica e sui gemelli che, diciamo, se Mengele aveva in testa di trovare il segreto dei parti gemellari, ovvero se una donna incinta partoriva più gemelli, erano più soldati per la gloria del Reich, più sangue fresco per la razza ariana, se capite quello che voglio dire. Questa era l'idea di Mengele. Tra l'altro, fatemi fare anche il cattivo. Mengele, quasi sicuramente Mengele, che non era stupido, si era inventato quel tipo di ricerche per evitare di finire sul fronte russo. Se i fratelli Orten si erano inventati l'ala volante per evitare di essere spediti a giocarsi il culo sul fronte russo, Mengele si era inventato le ricerche sui gemelli e sull'eugenetica che costarono la vita a migliaia e migliaia di persone ad Auschwitz. L'angelo della morte di Auschwitz, Mengele. Questi libri, questi agili, ben scritti, ben fatti e ben documentati libretti, ci riportano in maniera molto sintetica ma molto fruibile, molto comprensibile, quello che è stato combinato dai medici tedeschi nei campi di concentramento, anzi nei campi di sterminio. L'abisso umano, cioè l'abisso dell'animo umano, una cosa atroce, terrificante, vomitevole, io non so come altro definirlo. Ripeto, si tratta di un'opera estremamente sintetica. Io ve ne ho parlato più che altro come dire a titolo di curiosità perché si tratta di volumetti abbastanza facilmente reperibili sulle bancarelle, molto fruibili, molto chiari, molto utili perché contengono le sintesi degli interrogatori di Norimberga di certi personaggi e contengono anche le gesta di certi personaggi. C'è per esempio anche il leggendario cialtrone Theodor Morel, il medico personale di Hitler, la prima siringa del Reich, lo spacciatore di fiducia di Adolfo, l'uomo che praticamente ridusse Hitler alla larva tremante dei suoi ultimi mesi. Eh sì, c'è anche Morel. Ricordate, ne ho parlato più volte quando ho parlato di Tossici di Norman Huller. E ripeto, si tratta di un'opera facilmente reperibile sulle bancarelle o anche su ebay o anche su amazon eccetera eccetera. Un'opera che vi consiglio di recuperare per cominciare a farsi un'idea su qual era la filosofia che spingeva gli scienziati nazisti a certe folli ricerche. L'eugenetica, la ricerca della razza ariana perfetta, la ricerca, cioè ripeto Mengele studiava il modo per cambiare il colore degli occhi da marrone ad azzurro o verde o comunque sia per cambiare il colore da scuro a chiaro degli occhi dei bambini di razza ariana. Sembra una stronzata, oggettivamente lo è, ma è una stronzata che è costata la vita a migliaia, a centinaia e centinaia di persone. Pensateci bene, pensateci, Mengele. Tra l'altro piccola curiosità. Un mio parente, il cognato di mia madre, aveva una falciatrice meccanica trainata da, trainata a trazione animale, trainata dai buoi, che era stata prodotta dalla ditta Mengele. Perché Mengele era l'erede di una ricca dinastia di industriali che fabbricavano macchine agricole. Sì. E io da ragazzino sedevo sul sedile di questa falciatrice meccanica degli anni 30, tirata, tirata dalle vacche, tirata dalle vacche del cognato di mia mamma, che era stata fabbricata dalla ditta Mengele. Pensiamoci, che roba, per dire. No, adesso scherzi a parte, ma al di là dei ricordi personali. Questi librettini, ripeto, quest'opera agile, curata, documentata e molto ben scritta, perché Philippe Aziz, che è l'estensore di quest'opera, si dimostra una penna molto agile, molto capace di sintetizzare in maniera molto intelligente la complessa e atroce vicenda delle sperimentazioni mediche naziste nei lager e nei campi di sterminio. Quindi, ripeto, può essere utile. Ci sono opere sicuramente più complete, sicuramente più esaustive, sicuramente più ampie come capacità di compenetrazione nella vicenda. Ma, ripeto, un utile strumento per iniziare la conoscenza di quello che è stato uno dei più atroci crimini nella storia dell'umanità. Sì, un crimine atroce. E adesso qua, entro un attimo nel personale. Qualche tempo fa mi è capitato di guardare un video di un certo personaggio di cui ho parlato più volte in questo canale, il mio cosiddetto arcinemico, un uomo che ha dimostrato più volte la sua stupida aggressività nei miei confronti scatenandomi contro la canea degli adepti della sua accademia, chiamiamola così. Mi è capitato qualche tempo fa di vedere un video di questo personaggio che parlava con un altro Marels da cantiere come lui, di che cosa? Di Mengele. Che cosa ha detto questo signore? Perché le ricerche di Mengele erano avanzatissime. Io ho parlato con un medico che mi ha detto che Mengele era molto, molto, molto avanti e che le sue ricerche sono servite agli americani e ai russi e agli ebrei di Israele al Mossad. Allora, io dico semplicemente una cosa. Quando si fanno certe affermazioni, documentati un attimo. Perché? Uno. Le ricerche di Mengele servivano più che altro soltanto a Mengele per evitare il fronte russo. Due. Chi è il fantomatico medico che ti avrebbe detto, caro signor Ubaldo, chi è il fantomatico medico che ti avrebbe detto che le ricerche di Mengele erano avanti? Tre. 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 Visto che Mengele era così tanto avanti, perché non vai da lui e te lo prendi come medico di base? Perché non vai da lui e te lo prendi come medico di base? Lo vorresti come medico di base, Mengele? Caro signor Ubaldo, pensaci bene. Vabbè, signori, scusate, non chiudo il video con questa cosa personale, perché oggettivamente c'è poco da dire. I medici dei Lager furono dei mostri, furono dei criminali, furono dei delinquenti, furono uomini che tradirono la medicina. Per cosa? Per obbedienza, per servilismo, per fanatismo. La vera, totale, atroce e stupida banalità del male raccontata da Hannah Arendt non è tanto Eichmann. Sono i medici dei Lager. Eichmann era un ometto da quattro soldi, ma come dire, per esempio un altro, eccolo, il professor Hagen con la sua aria da nonno, il professor Hirt, eccolo, un altro, il professor Hirt, con la sua collezione di cadaveri, Schirmer, il... che, scusate, ve li faccio vedere, ecco, il dottor Bickenbach, un altro, un altro personaggio da niente, un uomo normale, un uomo come tanti, un dottore come tanti, una persona per bene, una persona come noi, un uomo come noi. Scusate, sto cercando ancora le foto. Eccolo, c'è, tanto per dire, insomma, personaggi, uomini normali, uomini come tutti, uomini medici, laureati, c'è, come dire, ecco, il dottor Siegfried Rusha, questo qui, l'uomo che, per studiare gli effetti della decompressione d'alta quota, per studiare gli effetti delle basse temperature sugli aviatori caduti in mare, sacrificò decine e decine di prigionieri di guerra sovietici. Le avete viste le foto? Uomini come noi, uomini come tutti, uomini banali, che non avevano niente di speciale, ma che compirono il male, fecero il male, furono il male. La banalità del male, lo specchio della banalità del male, descritto mirabilmente da Hannah Arendt nel suo libro, non è tanto nella mezza, in quella figura di mezza calzetta che fu Adolf Eichmann. Eccola, la vera banalità del male. Un ometto come tanti, un signore di mezza età, un dottore di mezza età, come tanti, il dottor Hirt, che sacrificò migliaia di persone per le sue ricerche sui gas benefici, sui gas tossici, sulle infezioni. Cioè, un uomo che fece morire volutamente migliaia e migliaia di persone senza alcun rimorso in nome di cosa? In nome dell'obbedienza ai dettani del nazismo. Bell'esemplare di razza ariana, bell'esemplare di razza superiore, bell'esemplare di uomo banale, di uomo come tanti, di uomo malvagio. La banalità del male. Più ancora, ripeto, a mio personale e modesto giudizio, ancor più del banale Heidrich, questo è il vero volto della banalità del male. Molto più di Mengele, perché quest'uomo ne combinò molto peggio di Mengele. E leggendo quest'opera, questi libretti, molto fruibili, molto godibili come lettura, pur nella loro spaventosa crudezza, sono libri che si leggono in un fiato, cioè sono libri terribili, ma al contempo di agevole lettura. E sono libri che vi consiglio, ripeto, un punto di inizio per la conoscenza di quest'angolo buio dell'umanità. ci sono altre opere, ci sono, come dire, altre ricerche più complete, più esaustive, più specialistiche, ma per gettare uno sguardo d'insieme quest'opera di Filippa Aziz, questa vecchia collana scritta da Filippa Aziz, è uno strumento eccellente per iniziare la conoscenza. i verbali del processo di Norimberga, i documenti degli archivi tedeschi, la storia dei ciarlatani, dei ciarlatani, dei vili, dei faciloni, dei criminali che affollavano la medicina tedesca nel Terzo Reich. Da leggere, da leggere, ripeto, per avere un punto di partenza sulla conoscenza di queste orribili vicende. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera. Grazie. Grazie.